Legge di riordino al via all'esame dell'aula L'oracle è pienamente operativo Giorno del ricordo, gli eventi proseguiranno fino al 25 febbraio Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Proseguirà nelle prossime sedute d'aula L'esame della legge di riordino su cui insistono oltre 1200 emendamenti Si cerca un accordo tra maggioranza e opposizione Per questo la conferenza dei capigruppo per ora non ha deciso il contingentamento dei tempi 91 articoli e 1100 emendamenti presentati dall'opposizione E più di 100 di maggioranza è giunta per un totale di 1247 Questi i numeri salienti dei lavori sulla legge annuale di riordino Dell'ordinamento regionale anno 2022 che l'aula ha iniziato a esaminare Il DDL interviene per modificare alcune leggi regionali Contenenti specifiche discipline di settore Al fine di aggiornarle e attualizzarle Anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato-Regioni Ed evitare contenziosi Snellire, semplificare, mettere a punto alcune questioni delicate Come ad esempio può essere sul sociale o sulla sanità o su altre cose Che hanno necessità di essere aggiornate La conferenza dei capigruppo per il momento non ha deciso il contingentamento Prima di stabilirlo si cerca un possibile accordo Su alcuni argomenti tra maggioranza e opposizione I piemontesi ci chiedono di avere una regione più dinamica, più moderna Questa è la nostra linea e siamo convinti di questo Siamo in aula per appunto modernare la regione Piemonte Vengono cancellate leggi inutili o che ormai sono obsolete e superate E quindi crediamo che alla fine di questo lavoro Che durerà penso ancora tutta la prossima settimana Avremo dato al Piemonte un'efficienza legislativa migliore di quella attuale L'opposizione obietta che la maggioranza intende a modificare profondamente alcune leggi in vigore Comprese quelle che riguardano la caccia, il gioco legale e le attività estrattive Sulla caccia vengono introdotte delle norme, delle liberalizzazioni sui comitati di gestione Sulle cave, noi l'abbiamo già denunciato più volte, è uno scempio ambientale Perché abolisce di fatto la programmazione regionale, il prae regionale Chiaramente siamo arrivati in aula con delle proposte emendative Non poche per andare a correggere quelle che sono le criticità Però auspichiamo ancora in un confronto che speriamo arrivi a breve da parte della giunta regionale È pienamente operativo l'Oracle, il nuovo organismo di controllo collaborativo della regione Entra nella piena operatività l'Oracle, organismo di controllo collaborativo Che il Consiglio ha istituito con una legge del novembre 2021 Cinque i componenti, il presidente Arturo Soprano, Aurora Andrea Di Benedetto, Roberto Fantini, Luca Libra e Nicola Longo L'Oracle ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della giunta Valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni Vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti Supportare la giunta regionale, le società in aus e le partecipate nella formazione e nell'attuazione Dei piani di prevenzione della corruzione Un organismo di controllo per cercare di controllare ulteriormente la bontà delle leggi E dare l'opportunità ai cittadini di dare massima trasparenza su quello che si sta svolgendo Qua in Consiglio e soprattutto nella giunta Si esercita una vigilanza collaborativa nei confronti degli atti della giunta E degli enti, o meglio degli organismi partecipati, controllati dalla regione Piemonte Un organismo autonomo, terzo, che sarà ulteriore garanzia di trasparenza e legalità Di tutti gli atti della pubblica amministrazione regionale Finché la garanzia sia piena che i soldi dei cittadini sono rispettati Con trasparenza, onestà e legalità Blocco auto, scuole guida in difficoltà Silvio Maliano, moderati, ha interrogato l'assessore Matteo Marnati Nell'ambito dei question time Quale futuro per gli esaminatori di guida in possesso di veicoli sottoposti alle limitazioni del traffico? Il blocco delle auto, così com'è, penalizza cittadini e lavoratori Urge riaprire una discussione Questa è la richiesta che il consigliere dei moderati, Silvio Maliano Ha rivolto all'assessore ai trasporti Matteo Marnati Nell'ambito dei question time Gli indirizzi regionali, ha specificato Marnati Sono stati concordati nell'ambito dei tavoli di qualità dell'aria E gli atti sono stati notificati al Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica E alla Commissione Europea Al momento è concesso l'utilizzo di un veicolo potenzialmente inquinante Solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni riguardanti ad esempio la non disponibilità di mezzi pubblici in prossimità dell'abitazione o del luogo di lavoro I mezzi degli esaminatori di guida non rientrano pertanto in tale categoria Bisogna capire l'importanza della formazione Investiremo sempre di più negli ITS Sono pilastri della società E servono a dare un senso alla vita di tanti giovani Che avevano perso fiducia nella loro esistenza Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara Accompagnato dal Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasi Ha fatto visita alla scuola di formazione professionale La Piazza dei Mestieri di Torino Un'occasione per ribadire l'importanza degli ITS Che nei prossimi mesi beneficeranno di un finanziamento statale di 28 milioni di euro La formazione deve essere il cardine per i giovani Percentuali di successo dell'introduzione nel mondo del lavoro Da parte di questi enti di formazione Soprattutto qua a Torino, a Piazza dei Mestieri è altissima Investiamo, investiamo sempre di più in percorsi di questo tipo Che sono pilastri della nostra società E servono anche a dare un senso alla vita di tanti ragazzi Che prima, come è stato detto, avevano perso la fiducia Giorno del ricordo Le iniziative proseguono fino al 25 febbraio Si è celebrato il 10 febbraio scorso Il giorno del ricordo In memoria della tragedia delle foibe E dell'esodo degli italiani dall'Istria, fiume e dalmazia Numerose le iniziative organizzate dal Comitato Resistenza e Costituzione Del Consiglio regionale del Piemonte In collaborazione con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia La Regione Piemonte, la città di Torino e il Polo del Novecento A Palazzo Civico si è tenuta la cerimonia istituzionale Alla presenza delle autorità cittadine Con l'intervento del Vice Presidente del Consiglio Daniele Valle Mentre al Polo del Novecento è stato presentato il volume di Enrico Miletto Le due Marie vite sulla frontiera orientale d'Italia Per fare chiarezza sul clima storico e politico del confine orientale Seguendo la vita personale di due donne agli antipodi In un incontro rivolto alla cittadinanza e alle scuole È importante ricordare, per fare giustizia Perché questa pagina della nostra storia nazionale non venga dimenticata E per costruire una memoria condivisa di quello che è capitato nel nostro paese Le celebrazioni per il giorno del ricordo si chiuderanno il 25 febbraio Al Conservatorio Giuseppe Verdi con lo spettacolo teatrale Grazie Alida Sulla figura dell'attrice di Pola Alida Valli Prodotto dalla Comunità degli Italiani di Pola Inaugurata la mostra fotografica con gli scatti di Paolo Siccardi Che testimoniano l'assedio di Sarajevo di cui ricorre il trentennale È visitabile fino al 19 marzo, al mastio della cittadella di Torino La mostra fotografica di Paolo Siccardi La lunga notte di Sarajevo, 5 aprile 1992, 29 febbraio 1996 In occasione dei trent'anni dall'assedio della capitale della Bosnia Trenta immagini in bianco e nero di grande formato Per trasmettere l'angoscia delle persone intrappolate La vita sotto le continue esplosioni e gli spari dei cecchini Il silenzio assordante della morte e delle esplosioni L'immagine più significativa mostra il musicista Vedran Smailovic In smoking con il suo violoncello che suona in mezzo alla città devastata È un racconto fotografico sulla vita che continua Con la cadenza quotidiana di centinaia di esplosioni ogni giorno L'esposizione, curata da Tiziana Bonomo È realizzata dall'Associazione La Porta di Vetro Con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte E del Comitato Diritti Umani In collaborazione col Museo di Artiglieria E l'Associazione Artiglieri d'Italia Il patrocinio della città di Torino Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi Vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti Sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci